Raga, buongiorno! Io sempre alle prese con la mia routine mattutina. Allora, cambio lenzuola, effettuate. Maia salta e corre, quindi tutto a posto, come si dice. Amore, ma che c'è? Che c'è, amore mio? Che c'è, gioia mia? Che c'è? Amore, sei tu? Tu sei la mia bimba? Un bimbo mio sei tu. Allora, raga, vi stavo dicendo la mia solita routine mattutina, sempre alle prese con le cose da fare che ci sono al mattino. Ora, la prima cosa che mi preme fare è stirare questa copertura della sedia Ikea, perché sono ben tre giorni che ho la sedia senza copertura e non va bene, non mi piace questa cosa. Quindi, però, tra l'altro, per ora ho la lavatrice che sta lavando e molto spesso io non metto mai, se ho la lavatrice che lava, non, come dire, non metto la spina del ferro perché rischio di fare saltare il contatore. Quindi, aspetto che la lavatrice finisca e poi, appunto, mi stiro questa fodera perché, vi ripeto, sono tre giorni che ho la sedia in queste condizioni. Come vedete, Maya mi segue e salta da un posto all'altro. Ragazzi, allora, volevo parlare di una cosa. Intanto vi volevo far vedere le cose che sono stata, scusate, è caduta una cosa, sono stata ieri a prendermi da questa persona, da Franco. Allora, intanto questi sono, guardate che sono belli questi piatti, questi sono sei piatti che mi ha regalato Flavia, quindi la figlia della persona che è mancata. Questi sono piatti suoi, personali. Siccome sa che a me piace il rosa, evidentemente lei non ne va matta. Poi, tra l'altro, ora lei deve traslocare. Quindi, sapete come si fa in tutti i traslochi. Si toglie quello che non si vuole portare. E lo sapete. Quindi, questi me li ha fatti trovare lei, a casa di Franco, e questo è quindi un suo regalo personale. Io poi mi sono presa questi piatti, anzi dire mi sono presa non è esatto. Questi me li ha messi da parte pure lei, perché sa appunto sempre che mi piace il rosa, insomma come un pochino a noi tutte chiamiamolo sciabbi. E quindi questi me li aveva messi da parte. Allora, siccome io ho notato appunto che questi piatti sono un po' strani, o è un piatto tipo a conchiglia, così potrebbe essere magari. Però a me mi ricorda di più questa tipologia di piatti, quelle grandi antipastiere. Avete presente quelle antipastiere grandi che si compongono con tanti elementi? Perfetto, secondo me qui in centro ci andava una cosa che faceva parte di questi piatti, oppure sono piatti che hanno questa forma tipo di conchiglia. Io ieri ho, come dire, ho usato questo escamotage, vi faccio vedere. Ho messo questa ciotolina in centro, naturalmente a me non mancano le ciotole e tutte queste cose. E l'ho composta così. Le ho mandato il video di questa composizione ed è piaciuto tantissimo a Flavia. Quindi io la interpreto così, però mi sto rendendo conto che potrebbe essere anche magari un piatto a forma di tipo di conchiglia. Io comunque così devo dire che mi piace moltissimo. Quindi immaginatevi una tavola apparecchiata con questa antipastiera al centro, con tutte le cosine buone da mangiare. E quindi, ricapitolando, mi sono presa questi piatti che è un regalo suo. Questi qua che lei mi ha messo da parte, ma che erano di franco. E poi mi sono presa una zanzariera. Io di queste ne avevo zanzariere. Adesso vi faccio vedere. Così vi faccio capire qual è. Allora, un attimo. Ecco qua, non so se le conoscete. Questa è una zanzariera che io per tanti anni ho avuto sul letto, ma proprio come dire, per estetica, perché mi piace proprio la sensazione di questo velo così. Mentre in realtà può essere utile, difatti si chiama zanzariera, perché questi veli si mettono attorno al letto ed evitano il passaggio delle zanzare. E quindi mi sono presa, ripeto, quei piatti, questa zanzariera, e no, e poi non ho preso altro. C'era tanta gente, amici di università, colleghi, che ognuno si pigliava un ricordino. E a questo proposito, diciamo, ho risposto ieri a una persona che ha fatto un commento, per carità, lei ha avuto questo modo di vedere, ma io ci tengo a ribadire che non è proprio così. Questa persona ha detto, mamma mia che brutto, questa persona è un mese che è morta, e già tutte le persone si stanno andando a prendere le sue cose. Ora, ragazzi, il problema è questo. Intanto io ho esperienza di quando, appunto, qualche persona se ne va e magari vive sola alla casa, so che cosa significa andare a svuotare la casa, vedere tutti gli abiti, tutti gli oggetti che sono appartenute, e, appunto, ci si deve disfare di queste cose. Queste ragazze, che sono appunto le sue figlie, hanno fatto una cosa, secondo me, riprendo il discorso, stavo dicendo che queste ragazze, secondo me, hanno fatto una cosa carinissima, perché, anzitutto, hanno necessità di svuotare questo appartamento perché era in affitto e quindi lo devono lasciare. Poi questo signore, appunto, Franco, era uno che aveva, che ne so, collezioni di giornaletti antichi, diciamo era un po' un accumulatore di cose che a lui piacevano. Quindi mi è sembrata una cosa carina che hanno fatto queste due ragazze, anziché fare venire uno per buttare tutte le cose o venderle, hanno invitato amici e parenti a prendersi, appunto, se volevano un ricordo, un oggettino, una qualche cosa, dei giornali. Naturalmente poi ci sono tutte quelle cose che si sono tenute loro, come tutte le foto, qualche quadro, qualche pianta. E' chiaro che loro alle cose a cui tenevano, insomma, se li sono tenuti loro, però hanno, appunto, invitato gli amici e i parenti ad andare a prendersi qualche cosa che, appunto, gli ricordasse poi il padre. Quindi nel caso degli amici che gli ricordasse l'amico, il parente. Quindi, siccome questa persona ha detto, mamma, che peccato, neanche un mese che è morto e già stanno dando via tutte le sue cose, è una necessità. Prima di tutto, ripeto, perché l'immobile era in affitto, lo devono svuotare. E poi, anziché venderle, oppure buttarle, fare venire uno che pulisce e che butta tutte le cose, diciamo, queste cose si salveranno perché andranno ad amici e parenti. Ok, chiuso questo argomento, ragazze, perché ci tenevo. Niente, ora devo, appunto, fare una cucina bella tosta di ieri e poi, appunto, devo stirare e mettere questa fodera, fare il bagno come al solito e vediamo se oggi riesco a farmi, a pulirmi il salone bene bene. Perché sabato non l'ho fatto, appunto, ieri perché sono uscita, di mattina e tutto quanto. Quindi, mettiamoci al lavoro. Ragazze, oggi la mia doppia detersione la faccio con questo di Sien, come vedete il tubo è nuovo perché ho esaurito, appunto, l'ultimo. E oggi, appunto, vi ripeto, lo faccio con questo che dà questa sensazione di mare, di freschezza, perché ieri ho fatto un trucco bello pieno di tutto. Non ho messo solo il mascara ieri, ma poi ho fatto un bel trucco completo. Quindi, oggi, doppia detersione con questo, per togliere, a parte, diciamo, il latte detergente e tutto quanto, con questo poi proprio andiamo a fare una doppia detersione. Ragazze, che ne pensate? Questi sono i piatti che ho portato ieri. Franco e questi me li ha regalati invece Flavia. Allora, raga, non c'è la migliore occasione per utilizzarli perché oggi ci sono i miei figli a pranzo e quindi sono felice. Avevo invitato pure mio nipote con Flavia, però per pranzo avevano già un impegno. Comunque, intanto, sapete che io apparecchio sempre prima perché ho l'ansia dell'apparecchiatura. Quindi ho messo una semplice dovaglia bianca e, appunto, tutti questi piatti in rosa, compreso, chiamiamola questa antipastiera. In centro, anziché mettere la ciotola, ho messo il vaso, altrimenti il vaso con i tulipani non lo potevo utilizzare. Ragazze, vi faccio vedere, ho passato lo straccio perché appunto non ero riuscita a farla ieri, quindi ho passato lo straccio in tutto il salone. Tutto bello pulito, vediamo se il bagno è asciutto. Oggi per pranzo faremo le farfallecche al salmone per i ragazzi perché loro ne vanno matti. Mentre io e mio marito abbiamo la pasta con i broccoli in tegame. L'ho fatta ieri, è avanzato un po' di condimento e quindi noi, vecchi, ci mangeremo la pasta con i broccoli in tegame. Poi per l'antipasto vogliamo fare un po' di formaggi e salumi e poi voglio fare una pizza, un trancio di pizza che ho sempre per antipasto. Quindi è un bel trancio che taglierò a tocchetti e lo mangeremo per antipasto. Dunque, a che punto sono? Fatto! Ragazze, sono stanca, lo so. Qui è fatto, poi ho stirato la fodera della sedia Ikea e l'ho messa e me la sono messa io in modo che magari ci sto un pochino più attenta a non farla sporcare. Perché sapete, quando mi capita che appena metto la fodera pulita si sporca, diciamo che un po' mi incavolo. Poi, stamattina appunto quando ho stirato la fodera, mi era venuta la voglia di stirare anche le altre cose. Però se avessi stirato le altre cose avrei ritardato con lo straccio, quindi mi interessava di più fare quella cosa. Però ora mi sa che posso stirare. Maya naturalmente corre da un punto all'altro. È vero, amore? Poi, che cosa dirvi ragazze? Niente, devo mettere ancora le posate, devo mettere i tovaglioli. Però prima che... appena la finisco ve la faccio vedere. Appena riempio appunto questi piatti con gli antipasti, vi faccio vedere il risultato finale. Ragazzi, ho dimenticato a dirvi che ieri a casa di Franco ho preso anche questo libro, Lolita. Non so se lo conoscete. Allora, questo è un libro che ai tempi fece un po' di scalpore. Maya, che c'è? Fece un po' di scalpore perché... Ma comunque lo dovreste conoscere perché hanno fatto anche dei film tratti da questo libro. Uno che mi ricordo tra tutti c'era Jeremy Irons che faceva il protagonista. Dicevo appunto, è un signore d'alta borghesia che si innamora, perde un po' la testa per la figlia della sua compagna, della sua donna del momento. Questa Lolita non era altro che una ragazzina, 13 anni, però un po' diciamo così maliziosa. E lui quindi perse la testa per questa ragazzina. Quindi ieri ho visto questo libro e ho detto questo me lo prendo. Ok ragazze, sono... che ho fatto già quasi tutto. Ora ho 10 minuti e mi sono messa il ferro per stirare quelle due cosine e questa camicia di mio marito. E poi mi aspetta una bella bacinella piena piena di cose da stendere che sono appunto il cambio delle lenzuola di oggi, più qualche asciugamano, eccetera eccetera. Nel frattempo io a tavola ho aggiunto le posate, ho messo queste col manico tortora e ho chiuso un po' di cose perché ragazze c'è un'aria fredda e quindi tanto la si è asciugato dal lato del salotto. E quindi qua ora devo aggiungere i tovaglioli e poi dovrò aggiungere il cibo, appunto gli affettati, questa è una cosa che faremo ancora poi. E poi raga non ho finito perché poi dovrei farmi una doccia veloce e rendermi presentabile. Metto niente di che, metto una camicia, metto un leggings, però appunto voglio essere presentabile. Ragazze, ce la farò a fare un trucco in 5 minuti. Naturalmente non metterò fondotinta. Proprio, diciamo, sarà un trucco ridotto ai minimi termini. Perché intanto si prevede un pomeriggio in casa. E quindi che mi trucco a fare? Metto magari solamente questo correttore, che è, oh cavolo, quando mi cadono le cose da leggere. Le mani, stavo dicendo appunto, metto un poco di questo correttore, che è molto chiaro, quindi cerco di illuminare un poco le zone, quelle che sono più scure. Facciamo dei punti luce così nella fronte, nel mento. Eh sì ragazze, perché tra poco vengono i miei figli e quindi mi voglio sbrigare. E poi vi ripeto, per stare a casa, che senso ha farsi chissà quale trucco. Allora, utilizzo di nuovo la palette, quella nuova, quella che ho utilizzato ieri. Vado a cercare un pennello che non sia troppo sporco. E questa è un'impresa perché sono tutti sporchi. Vediamo se oggi mi riesce di lavarli. Ho preso questo, che tra l'altro è pure brutto. Va bene, dai, che cosa facciamo? Allora, prendiamo un poco di questo marrone, proprio, pochino, pochino. Un marrone caldo, questo è un marrone caldo. Ma proprio pochino, pochino, pochino. Ok, così. E poi vado a mettere, guardate, vi faccio vedere. Guardate che sono belli questi tre shimmer. Questo, questo e questo. Vediamo che cosa metto. Metto questo qua. Per aggiungere solo un tocco di luce. Sbattiamo proprio nell'angolo dell'occhio. Proprio così. Così, proprio un angolo di luce. Allora, ragazze, però la matita nera la metto all'interno dell'occhio perché mi piace, perché ravviva l'occhio. Allora, vi ho detto qual è il menu, sì. Ve l'ho detto. Quindi, farfallette al salmone per i ragazzi. Pasta con i broccoli in tegame per i vecchi. Si fa per dire, naturalmente. Si fa per dire. Salumi, mozzarella di bufala, per antipasto. E va bene così. Allora, poi che cosa mettiamo? Poi mettiamo un po' di blush. E metto questo, che con i colori marrone mi piace. Vi faccio vedere qual è. Sempre questo. Tra l'altro, questo non lo utilizzavo da tempo. E poi, invece, è saltato fuori. Che bel colore che è. Sembra il colore dell'ombretto che ho messo oggi. Proprio si sposa benissimo. Guardate. Ottima scelta. Ottima scelta, ragazze. Scuriamo pure il collo. Si vede che oggi vado di fretta? Sì, si vede. Allora, io volevo mettere oggi il rossetto, quello rosa, nuovo. Ma, con questi colori, non c'ha zecca niente. Quindi mettiamo qualcosa di marrone, di nude. Tampono un pochino le labbra. Questa è la mantita nuova che ho comprato insieme a tutte le altre cose Kiko. ed è la numero 33. È una matita buona, molto morbida. Molto morbida, vedete? Allora, ragazze, con questi colori, voglio mettere un rossetto chiaro. Quindi metto una di queste due tinte, metto questa qua, che è più chiara. Così rimaniamo con i colori, appunto, sul nude, sul marrone. Così, sulle, Cornette. Così, sulle, un ono, non c'è più chiara. ok vediamo si sono passati poco più di 5 minuti allora come vedete sul marrone però mi devo fare una specie di eyeliner perché io con l'occhio smorto non mi piaccio quindi vado a fare una piccola codina con il pennello e l'ombretto nero quindi facciamo una sorta di eyeliner rimaniamo all'attaccatura delle ciglia e facciamo proprio una specie di eyeliner avete visto già l'occhio è un pochino più vivo ok ho sentito suonare quindi questa è Alessia con suo marito sicuramente ok ragazze mi vado a dare una pettinata ok ragazze giusto per essere proprio presentabile intanto vi volevo fare vedere ieri ho fatto il colore ragazzi mi è venuto come al solito bello un bel colore compatto e mi piace anche questo trucco nei toni tutti beige nei toni nude molto molto soft ok ragazze allora io vi saluto è stato un vlog lungo con tanti argomenti libri vi ho fatto vedere quelle cose nuove vi ho fatto vedere la misa in plus quindi come al solito noi ci vediamo domani mattina per i soliti vlog però più tardi vi registro il la rubrica diciamo che cosa troviamo al lidl da domani quindi da lunedì 29 credo più tardi ve lo faccio così vediamo che cosa possiamo andare a comprare al lidl baci mi raccomando mettete un like se i miei video vi piacciono e continuate ad iscrivervi mua